Ora bisogna trovare un macchinario che stabilisca il minutaggio dei cardi, non lo so, di sicuro meglio starà perché quando un ragazzo si allena, anche questa settimana si è allenato a piano regime con la squadra, ha fatto tutto, di sicuro addirittura proprio in settimana ci ho anche parlato personalmente davanti a Pondrelli per fargli capire cos'è la supercompensazione, cos'è l'allenamento, come si aumenta il range di genuta durante una gara, insomma ho cercato anche di convincerlo su quello che lo capisca, cosa vuol dire se va oltre il proprio limite anche in allenamento, il giorno dopo è in grado di fare un po' di più. Vediamo, vediamo, intanto penso di sicuro che gli fa bene allenarsi come ha fatto e purtroppo non l'ha potuto fare nei sei mesi passati perché non l'ha mai fatti tanti allenamenti tutti insieme come sta facendo. Nel discorso gli ho fatto capire anche quello che è vero che bisogna fare gol perché un attaccante si fa gol ha già fatto qualcosa di buono, però è vero che poi con il risultato di squadra che se non si corre non si dà una mano tutti, come si è visto anche nelle ultime partite in cui non ci sono andati bene i risultati, gli altri non è che stanno a guardare e ti fanno gol loro, quindi bisogna lavorare tutti dietro la linea della palla e fare quello che abbiamo preparato in partita, insomma, quindi vabbè, di Cardi l'ho già risposto.